ed eccoci qua cari amici di Orizzonte Scuola TV eh stiamo per trasmettere una eh intervista con eh l'onorevole Elenia Malavasi rappresentante del partito democratico eh e componente della commissione affari eh sociali eh proprio di eh Montecitorio eh sono i giorni delle prime eh i primi atti del eh ministero dell'istruzione una legge di bilancio è stata approvata ma fanno discutere anche le esternazioni del eh titolare del di Castello di Viale Trastevere Giuseppe Valditara eh l'ultima eh ha fatto davvero clamore quella eh detta in un convegno a Milano sulla umiliazione come eh diciamo base per il eh riscatto e poi il ministro ha fatto marchi indietro ma ce ne sono eh tante altre diciamo che in questo primo mese il ministro non ha eh diciamo non è eh passato inosservato. Eh diamo dunque il benvenuto all'onorevole eh Malavasi buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno buongiorno a voi. Allora eh onorevole eh le parole del ministro Valditara hanno fatto discutere lei già è uscita con una nota abbastanza dura parlato di eh scuola come eh riformatorio. Ecco eh possiamo definirla a modello Valditara no? Eh il ministro non sta lasciando spazio all'immaginazione c'è un cambio di passo rispetto al passato ma beh che il ministro Patrizio Bianchi faceva parte di un esecutivo tecnico ma eh con il eh ministro eh Valditara c'è una connotazione politica ben precisa in cui io le chiedo ma davvero possiamo parlare di una scuola che sta tornando indietro di cent'anni? Ma diciamo che le prime dichiarazioni fatte dal ministro eh sono per me preoccupanti e io ho avuto la fortuna di seguire la scuola nel mio percorso eh personale e credo che la scuola debba prima di tutto supportare e dare opportunità ai ragazzi a tutti i ragazzi e debba soprattutto educare e fornire loro strumenti diciamo e competenze trasversali anche per la vita e il ministro ha fatto alcune uscite non solo su questo termine umiliazione che è un termine assolutamente inappropriato inadeguato cioè la scuola non deve essere punitiva per migliorare anche i comportamenti ma deve comunque aiutare a comprendere e anche sul piano educativo gli errori che si sono fatti e e soprattutto ha anche detto nella loro scelta di eliminare il reddito di cittadinanze che l'avrebbero tolto comunque a coloro che a coloro che non avevano dei eh diciamo titoli di studio almeno di terza media allora è evidente che ehm non possiamo continuare a colpevolizzare o a punire persone che nel loro percorso di vita sono stati meno fortunati hanno avuto probabilmente dei contesti di vita sociale di fragilità che li ha portati ad avere forse delle vite anche complicate ehm questa idea che bisogna comunque premiare coloro che sono più fortunati forse anche più ricchi e benestanti che hanno avuto una vita più facile eh e punire eh perché questa questa idea che la scuola deve punire deve umiliare è un'idea sbagliata della scuola non è questo che deve essere la nostra scuola penso che sia l'idea di una scuola che non è di una scuola moderna e che non appartiene nemmeno a quello che le scuole fanno in Italia lo dico perché io penso che ci sia comunque un'ottima scuola ci sono sicuramente tante cose da migliorare ma io penso che vada anche valorizzato il lavoro prezioso che fanno i docenti i dirigenti scolastici che dedicano impegno e passione eh perché sono degli educatori a supportare i ragazzi nel loro percorso di crescita allora il nostro obiettivo deve essere quello di aiutare i ragazzi non di punirli eh io sono anche d'accordo sull'idea di far fare diciamo del volontariato dei percorsi per far conoscere ai ragazzi piuttosto che eh diciamo lasciarli a casa se vengono comunque espulsi da scuola eh o con delle ammunizioni particolari proprio per farli conoscere delle realtà anche differenti quindi renderli eh più consapevoli della realtà del contesto in cui viviamo fare in modo che ci sia anche una presa di coscienza no delle fragilità esterne alla scuola ma questo non significa né fargli fare dei lavori socialmente utili la scuola non deve fare lavorare i ragazzi li deve educare né tantomeno li deve umiliare oggi il ministro ha ritrattato ha parlato ha detto che si è espresso male che voleva parlare di umiltà ma un ministro che è un docente universitario non si può permettere di utilizzare dei termini così impropri che danno l'idea di una scuola punitiva come se la scuola devesse eh redimere le persone che hanno sbagliato strada non è questa la scuola italiana e non è questa la scuola di cui abbiamo bisogno in questo paese ecco eh onorevole il ministro si eh diciamo si riferiva agli studenti che eh aggrediscono violenti nei confronti anche degli insegnanti ecco un altro tema fondamentale eh che ci riguarda eh da vicino è quello del personale scolastico che viene eh umiliato che viene aggredito che reagisce anche in modo scomposto alle provocazioni lo abbiamo visto eh studenti che eh sparano eh in classe che eh diciamo alzano eh diciamo le mani ecco una situazione davvero eh davvero grave eh che riguarda anche eh gli insegnanti come si può recuperare l'autorevolezza eh dei docenti? Non credo che sia solo una questione economica però. No eh non credo anch'io eh io penso che la questione economica ci sia perché comunque abbiamo un contesto per i nostri docenti che secondo me è inferiore rispetto a molti altri paesi d'Europa e quindi è giusto che venga riconosciuta la responsabilità e anche il lavoro e la professione che mettono in campo. Io penso che in Italia ci sia bisogno di rimettere al centro l'autorevolezza della scuola e del corpo insegnante perché eh diciamo oggi abbiamo delle classi sicuramente molto complesse e molto difficili eh in tutti i segmenti di scuola in particolare nelle scuole superiori ehm ma io credo che serva ridare centralità al ruolo del docente perché mh è saltata un po' quella sana alleanza educativa che teneva insieme il contesto familiare il contesto sociale e la scuola eh il docente non è riconosciuto nella sua autorevolezza spesso nemmeno dalle famiglie ehm proprio perché è saltata questa fiducia probabilmente nel nell'istituzione scolastica e io penso che questo sia una cosa grave è un problema culturale che riguarda in generale la scuola italiana eh forse non ci si crede più come una volta ma la scuola è un attore educativo fondamentale nella vita di tutti i ragazzi eh deve essere riconosciuta come tale dalle comunità che devono essere delle comunità educanti che riconoscono il ruolo della scuola ma anche dalle famiglie e le famiglie eh devono riconoscere il lavoro che fa il docente non possono mettere in discussione il lavoro che fa il docente perché questo viene a svilire il ruolo che loro fanno all'interno delle classi e mettono a rischio anche l'autorevolezza all'interno della classe stessa quindi è un problema eh importante che va preso in mano ma io credo che quei ragazzi abbiano delle difficoltà che non vadano puniti in senso stretto un conto sono ragazzi che fanno dei reati sui quali ovviamente eh hanno un altro livello di di attenzione ma i ragazzi che fanno dei fenomeni di bullismo dentro la classe o anche contro il professore sicuramente sono ragazzi che hanno bisogno di aiuto e li dobbiamo aiutare non li dobbiamo punire con una punizione fine a se stessa vanno aiutati perché sono ragazzi che diventeranno adulti che devono essere cittadini attivi devono capire sicuramente gli errori fatti per essere aiutati a recuperare un percorso di vita di dignità e anche di responsabilità altro argomento onorevole è quello che riguarda la legge di bilancio eh una legge di bilancio eh è stata varata in un momento storico eh particolare trentacinque miliardi gran parte dedicata al tema dell'energia per la scuola c'è veramente poco anche se bisogna sottolinearlo eh ci sono ancora i fondi del PNRR poi c'è anche la questione del contratto 150 milioni vengono eh anche stanziati per eh adeguare ulteriormente il eh lo stipendio degli insegnanti ma eh possiamo dire eh che non si tratta certamente di una finanziaria a favore del mondo dell'istruzione eh un suo parere su questo eh e in generale anche sul primo mese di lavoro del governo ma mi sembra che questa legge eh finanziaria che abbiamo visto iniziato a vedere insomma nelle prime anticipazioni eh che non ancora ha iniziato l'iter in commissione sia una legge eh deludente e io penso anche iniqua eh rispetto eh alle scelte politiche che mette in campo sicuramente per quanto riguarda la scuola le risorse sono poche eh quindi poche risorse rispetto alle necessità della scuola di oggi e io penso che è stato positivo lo voglio dire perché bisogna essere anche onesti nell'apprezzare anche gli sforzi che vengono fatti la eh diciamo il via libera della sottoscrizione del contratto eh che va però finanziato e su questo ci sono criticità al momento è una cosa positiva è l'inizio di un percorso anche di riconoscimento del ruolo eh insomma del 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 ruolo dei docenti e dei tutti gli organici eh sulla contrattazione nazionale è evidente che non ci sono i soldi che il ministro aveva promesso in fase anche di sottoscrizione del contratto ma soprattutto non ci sono le risorse che possono servire a stabilizzare i precari a mh a mettere risorse aggiuntive per i profili professionali degli ata dei dsga dei docenti eh non ci sono le risorse per eh diciamo il reclutamento delle figure che possono servire anche per il pnrr che lei ha citato e per eh rifinanziare eh anche i fondi della dispersione scolastica quindi ci sono eh alcune fragilità che ci preoccupano la legge di bilancio su cui vogliamo operare a me c'è una cosa che ha colpito molto che voglio dire nel senso che si parla di dimensionamento della rete scolase quindi oltre al fatto che non ci sono le risorse che servono alla scuola eh per le priorità che anche i sindacati legati alla scuola hanno sollecitato eh questa eh proposta che è nella legge di bilancio del ridimensionamento scolastico che passa che deve essere dimensionato un istituto scolastico dai novecento ai mille studenti rischia di far saltare di far sopprimere qualche centinaia di istituzione scolastica è vero che viene detto che sarà una riforma un nuovo dimensionamento graduale con una riduzione graduale per i primi tre anni al sette al cinque al tre per cento ma questo significa penalizzare moltissimo i territori meno popolosi quindi portare ad aggregazioni a nuovi istituti comprensivi molto più ampi eh andando a penalizzare magari quelle regioni o quei territori che ancora non hanno non si sono diciamo non hanno lavorato diciamo sulla rete scolastica quindi questo tema è un tema che secondo me è da attenzionare in modo particolare perché al netto delle risorse che non ci sono rischia di compromettere l'organizzazione scolastica di andare a penalizzare i territori più falici posso fare l'esempio dei territori montani o dei piccoli comuni che non hanno i numeri per un questo tipo di dimensionamento questo significa perdere l'autonomia scolastica quindi non avere un dirigente scolastico non avere un dsga quindi avere un contesto di fragilità e anche di o reggenze o di istituti che hanno dei bacini territoriali molto più ampi io penso che mh questa sia una misura pericolosa che vado ulteriormente a peggiorare quel radicamento territoriale che hanno le nostre scuole che sono ehm presidi educativi strategici in tutto il territorio nazionale nelle aree più disagiate in quelle più isolate nei piccoli comuni e nei territori montani questa è una riflessione siccome che dovremmo fare perché è vero che sono possibili compensazioni interregionali ma è pericoloso perché rischiamo veramente di penalizzare tutti i territori che sono al di fuori di grandi aree metropolitane. Perfetto grazie eh Ilenia Malavasi deputato del Partito Democratico membro della commissione affari sociali eh di Montesitorio grazie davvero e allora a presto per un nuovo appuntamento su Orizzonte Scolastico. Grazie buona giornata. Torniamo a schermo intero abbiamo dunque trasmesso l'intervista con l'onorevole Malavasi del eh Partito Democratico l'intervista e tutte le altre puntate di A Tu per Tu le potete rivedere sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube oltre che sul nostro sito orizzontescuola.it. Grazie e a presto.